Basta chiacchiere, sperimentazione alla buona. Una nota durissima è stata inviata dalle associazioni di categoria dei commercianti contro l'amministrazione Brucchi, accusata di essere sorda alla concertazione con gli operatori, ma anche di totale assenza di programmazione per favorire lo sviluppo economico della città. Abbiamo solamente voluto ricordare che sono trascorsi 5 anni lunghissimi che avevamo stabilito di costituire un tavolo di lavoro per i problemi del commercio. A oggi non è stato fatto nulla di ciò. Con molto rammarico abbiamo constatato che mentre prima eravamo 500-600 attività adesso ne siamo la metà, per cui molte attività ci hanno abbandonato, hanno deciso di cessare le loro imprese, per cui ci troviamo qui a discutere con dei problemi che non sono stati nemmeno trattati. Il problema della ZTL, il problema del carico e scarico, il problema dell'abusivismo, dell'accattonaggio, che si facessero un giro per la città e chiedessero le attività commerciali, non per sentito dire oppure che qualcuno dice va tutto bene, va tutto a posto, che scendessero loro per le vie della città e chiedessero come vanno in questo momento le attività. Siamo talmente vessati che probabilmente nemmeno si rendono conto. L'assessore al commercio che dice? L'assessore al commercio che dice? L'abbiamo sentito il 12 di agosto e una volta telefonicamente per chiedere se stavamo aperti la notte dello sport, che noi abbiamo aderito, anche lui il tavolo di lavoro, il tavolo di lavoro, che però ancora lo aspettiamo. Com'è andata questa notte dello sport secondo voi? Beh, a livello di presenza la gente c'è stata, a livello commerciale non è una notte attinente allo shopping per cui qualche vendita sarà stata fatta, però non è che noi ormai come esperienza sappiamo che se l'attività commerciale si fa un evento specifico per lo shopping il risultato è positivo. Secondo il sindaco Brucchi il 90% delle attività commerciale si è dichiarata soddisfatta di come sono andate le cose quella notte? E vorrà dire che noi siamo il 10% di differenza, che devo dire?